In questo numero del Salus Tg, dall'esperta i consigli per evitare danni e traumi ai denti durante le feste. Sono sempre di più gli anziani che nel periodo natalizio si trovano abbandonati in corsia. Con freddo e gelo, 4 italiani su 10 mangiano più frutto e verdura. E' questa la dieta più adatta per l'inverno? Dal centro antiveleni dell'IRCS Fondazione Maugeri, i pericoli nascosti nelle piante da dobo natalizio. Ingrassare durante le feste è un destino per tutti, ma per i nutrizionisti ad accumulare zavorra sono i maschi. Torroni e dolcetti a volontà sulle tavole imbandite per il Natale. E per chi passa le vacanze sulla neve, il pericolo di cadute e traumi maxillofacciali. Sono i pericoli che possono mettere a rischio la fragilità del cavo orale nell'età evolutiva durante le feste natalizie, ma bastano pochi accorgimenti per non rovinarsi le ferie. Durante le vacanze, oltre a un'alimentazione un po' meno controllata e quindi essere assolutamente più attenti sulle manovre generale, oppure ai bambini più piccoli, insomma i cibi duri tipo i torroni, evitiamo di strapparle con i bambini, appunto nel caso in cui parliamo di dentini decidui, meno saldi rispetto ai permanenti e poi tutti gli sport che durante le vacanze si possono fare, il pattinaggio, lo sci perché rispetto ai traumatismi facciali e quindi i dentali sicuramente aumenta il rischio. Costretti a brindare al nuovo anno da un letto di ospedale. Sono sempre di più gli anziani che, non sapendo dove andare e non potendo contare sulla propria famiglia, si ritrovano nel periodo delle feste di Natale abbandonati in corsia. Secondo Dario Manfellotto, della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti del Lazio, se mediamente in Italia gli anziani ricoverati rappresentano il 50% del totale dei degenti, a Natale, a Capodanno ma anche ad Agosto, questa percentuale aumenta di circa il 10%, soprattutto negli ospedali delle grandi città. Per Manfellotto, oltre alle acciacchi con cui devono fare i conti, molti di loro sono alle prese con una nuova malattia, la solitudine. E così in molti casi il ricovero si trasforma nell'abbandono del paziente in ospedale, che finisce per diventare l'alloggio temporaneo. Per Manfellotto, in Italia, il malato cronico o anziano è solo, non può più contare sull'autoassistenza e non ha una rete sociale alla quale rivolgersi, dalla famiglia alle strutture sul territorio. Più frutta e verdura, sono questi gli alimenti antifreddo a cui ricorrono quasi 4 italiani su 10 quando il termometro segna temperature vicine o sotto lo zero. A rivelarlo è uno studio della Coldiretti, che evidenzia come le abitudini a tavola degli italiani si vanno lentamente modificando verso una maggiore attenzione a questi alimenti salutari. Ma è davvero così? L'utilizzo di frutta e verdura in una quantità idonea, i nutrizionisti consigliano di adottare ogni giorno 5 porzioni di frutta e verdura. Effettivamente questo è un fatto positivo, meno il fatto degli integratori, perché l'integrazione va a favore, va introdotto quando l'alimentazione normale non è sufficiente. È vero che con il freddo si tende a mangiare di più? Diciamo che effettivamente di fronte a un abbassarsi della temperatura climatica è necessario che l'organismo mantenga la propria temperatura corporea. Questo obbliga l'organismo a bruciare di più per produrre più energia e questo può determinare un migliore introito di sostanze che apportino calorie. Molte delle piante con cui si addobbano le case in dicembre possono causare disturbi di vario genere, dal prurito ai problemi gastrointestinali. A lanciare l'allarme sono i tossicologi del Centro Antiveleni dell'IRCS, Fondazione Maugeri di Pavia. Secondo gli esperti, ben il 30% dei casi di intossicazione da veleni vegetali è provocato dalle stelle natalizie, vischio e bacche rosse di agrifoglio e pungitopo. La più pericolosa è proprio la famosa stella di Natale. La sostanza che si libera quando si lacerano le sue foglie o si taglia il fusto responsabile di eritemi, prurito, bruciore agli occhi al contatto con l'epidermide. Manche nausea, vomito e diarrea se il composto viene ingerito. Sotto l'albero del Natale italiano ci sono in media 2-3 chili in più a testa, calcolano gli esperti. Ma se ingrassare durante le feste è destino per tutti e accumulare zavorra è un rischio soprattutto al maschile. Secondo i nutrizionisti, gli uomini rispetto alle donne assumono più colesterolo e grassi saturi. Nel dettaglio, a tavola i maschi introducono in media 350 mg di colesterolo al giorno contro i 250 mg assunti dalle donne. La dieta quotidiana maschile contiene inoltre 300 mg di grassi saturi contro i 27 consumati dalle donne. Un gap che dipende sicuramente da una maggiore sensibilità femminile al fattore bilancia, ma che è anche una questione di gusti.